La Corte di Appello di Perugia rimette in discussione l'ergastolo per l'omicidio di Pamela Mastropietro. Marche flagellate dal maltempo, questa volta è il mare a fare danni e colpire duramente tutta la costa. Cultura e il ritrovato desiderio di andare a teatro in una regione che offre la più ampia scelta. Asportivamente l'esempio del palazzetto dello sport, attento al risparmio energetico. Un cordiale saluto dalla redazione di All News, il nostro nuovo telegiornale che anche questa sera ha un ospite in studio che vado a presentarvi. È Gilberto Santini, il direttore dell'AMAT, l'Associazione Marchigiana Attività Teatrali, con il quale dialogheremo nel corso di questa edizione. Buonasera Santini. Grazie, grazie dell'invito. E però, lo avete sentito dai nostri titoli, ci occupiamo dell'omicidio di Pamela Mastropietro perché la Corte d'Appello di Perugia ha deciso di sentire due testimoni. E così si riapre l'istruttoria sulla violenza sessuale. Il servizio. La Corte d'Assise d'Appello di Perugia, alla quale la Cassazione aveva affidato il processo d'Appello bis per la sola violenza sessuale nei confronti di Pamela Mastropietro, uccisa a macerata cinque anni fa da Innocent Osegheil, ha deciso di riaprire l'istruttoria dibattimentale. Si tratta di uno di quei meccanismi tecnici che alla fine finiscono per scavare un solco tra la sensibilità popolare e le rigidità del sistema giuridico. Proviamo a spiegare cosa è successo. La sentenza per l'omicidio, brutale e barbaro, è passata in giudicato con condanna all'ergastolo. Ma nel conteggio della pena fu inserito anche lo stupro. Proprio sulle prove della violenza sessuale la Cassazione ha imposto un ulteriore grado di giudizio, appunto demandato a Perugia. Il sostituto procuratore perugino Barlucchi oggi ha chiesto la conferma dell'ergastolo o, in subordine, l'ammissione di altri due testi che, secondo l'accusa, potrebbero confermare la violenza. Ma a questa ipotesi si è anche aggrappata la difesa. Il 32enne nigeriano continua a dichiararsi innocente di tutto per riaprire uno spiraglio e magari poter ottenere la riduzione della pena da ergastolo a 30 anni, che, con l'attuale sistema carcerario italiano, significherebbe, avendone l'omicida già scontati quasi 5, che tra una ventina d'anni potrebbe uscire. Situazione ben diversa dall'ergastolo. Forse temendo questi sviluppi, la madre di Pamela, due giorni fa, aveva chiesto e ottenuto un incontro con il presidente Mattarella. Continua il maltempo ad abbattersi sulla nostra regione. Nelle ultime ore è stato il vento e le mareggiate a provocare danni e paura. Il punto nel servizio di Lino Balestra. Venezia hanno il mose per fermare il mare d'inverno, che con il vento di Levante si è alzato di oltre un metro e che, oltre al fascino e alla malinconia con le mareggiate e le burrasche, porta devastazione e fegato gonfio agli operatori balneari, che nelle Marche non hanno il mose, ma sono una buona dose di pazienza che ormai sta per terminare. Sono due notti che non si dorme, ci dice uno di loro affano. Ieri il mare qua bloccava la passeggiata dell'Isipo, tutta la scogliera per non far scivolare la passeggiata è caduta tutta. Il mare è entrato fino all'interno del centro biologia e in comprepotenza all'interno del nuovo capannone dove ci sono i marinai e la lavorazione delle vongole, per cui lì abbiamo 100 persone a lavorare e ogni mareggiate è peggio. Situazioni fotocopia in tutte le coste marchigiane, ma mal comune in questo caso non è mezzo gaudio, anzi si mastica amaro, punto e basta. Partendo da Pesaro, dove la capitania di Porto ha bloccato il traffico e in diversi stabilimenti balneari il mare è arrivato fino alle cabine, scendendo giù fino a Marina di Monte Marciano, dove il lungomare è stato chiuso al traffico, i ristoratori degli scelè si dicono degli alluvionati, esasperati e psicologicamente distrutti, lungomare sommerso dall'acqua. Anche qui niente mose. Porto Recanati idem con patate. Sul litorale marinai d'Italia un pezzo del muretto ci ha lasciati per sempre, con protezione civile e comune, a guardare impotenti e a monitorare la furia dei marosi. Porto 9 e Passetto, mare Forza 7, cavalloni di oltre 4 metri che non lasciano scampo a spiaggia, stabilimenti balneari e passerelle, cancellati dalla piantina, mappe digitali aggiornasi. Ma anche all'interno non va meglio, alberi spezzati ovunque, fino alla baracola, dove 20 e più sono gli interventi dei vigili del fuoco. Nelle prossime 48 ore tregua, almeno fino a sabato, dove il maestrale lascerà il posto ai venti di Bora, si spera di minor velocità di quelli che ci siamo appena lasciati alle spalle. Inevitabile, torniamo ad occuparci del terremoto e delle conseguenze che lo sciame sismico, che rimane ancora attivo, come dimostra la scossa di 3.4 di questa notte, e tante altre micro scosse. Ma come facciamo con tutte queste sollecitazioni a sapere quanto gli edifici, le case in cui abitiamo, sono al sicuro? Questa mattina lo abbiamo chiesto all'ingegner Alessandro Dentamaro. Sentiamo. La prima cosa potrebbe essere quella di inviare delle foto ai propri amministratori, in maniera che già da una prima verifica i tecnici collegati agli amministratori possono dare una prima valutazione. Diciamo che un metodo molto semplice per verificare è quello di battere con un martello e sentire se in corrispondenza della cavillatura, diciamo, della microfessurazione, si sente un rumore più vuoto. Diverso tempo di edifici in muratura, in questo caso devo dire che alcuni edifici, soprattutto nel centro storico, sono stati colpiti in maniera, diciamo, più forte, ecco, quindi con la formazione delle croci e, diciamo, di queste fessurazioni. Ecco, in questi casi qua, ovviamente anche dall'ampiezza della fessurazione è sempre bene fare delle foto, mandarle all'amministratore o comunque, nel momento in cui si verificano delle crepe un po' più importanti, contattare il tecnico e, ovviamente, i vigili del fuoco. Dopo questa apertura dedicata alle notizie dell'ultima ora e alle prime pagine, vorrei parlare con Gilberto Santini, che è ospite questa sera del nostro telegiornale, direttore dell'AMAT, sull'importanza anche, alla luce di tanti eventi poco positivi e piacevoli, di prendersi una boccata d'ossigeno, magari con il teatro. E quindi, dopo il Covid, per esempio, com'è questa voglia e questa attività? È ripartita? Devo dire di sì, in maniera molto forte, perché tutte le stagioni teatrali che sono partite, sono tante, perché sono più di 80 i teatri appunto con cui AMAT collabora stabilmente, appunto sono partite grossomodo quasi tutte, insomma, altre partiranno in questi giorni, ma abbiamo registrato delle percentuali di crescita davvero incredibili, insomma, per certi versi inattese, ma come dicevi giustamente tu, aumenti tra il 30 e il 40%, dicono che i marchigiani, in un momento non facile, come quello che già questo telegiornale ha continuato a raccontare, però hanno voglia di riappropriarsi di questo luogo, che è il luogo della propria comunità, il luogo in cui in scena può accadere qualcosa, che in qualche modo ci fa capire anche questo presente un po' inquieto, insomma. Vediamo se è così, è così, però lo vediamo meglio, perché Cristiano Pietropaolo, ad Ascoli Piceno e dintorni, ha chiesto qualcosa alle persone proprio sul teatro e sulla voglia di teatro. Vediamo. Lei va al teatro, frequenta il teatro in genere? Io vado a teatro e fortunatamente ho collaborato anche con alcune associazioni teatrali del territorio che mi hanno aiutato molto, non al caso esiste anche la teatro-terapia, no? Il teatro, secondo me, in grande rimonta, nonostante la pandemia che abbia allontanato per qualche anno gli spettatori dei luoghi chiusi, ma adesso c'è una grande voglia di ritorno. Secondo me quel che manca adesso per far sì che la gente turni nei luoghi di cultura sia quello di rassicurarli e dar loro importanti occasioni di divertimento, di approfondimento e di grande interesse. Sicuramente ha una funzione molto importante perché permette ai ragazzi, ma anche agli adulti, di esprimersi nella loro originalità e di avere confidenza con le loro capacità e scoprirle, perché a volte neanche si sa le qualità che abbiamo. Ha sentito Santini? Abbiamo parlato addirittura di funzione del teatro, nonché di teatro-terapia. Insomma, il teatro fa bene, la cultura in generale. Il teatro fa bene, fa piacere quello che emergeva dal servizio, insomma, che c'è voglia, c'è bisogno di teatro e devo dire che la platea delle Marche con i suoi quasi 500 spettacoli che sono iniziati a ottobre, finiranno a maggio, risponderà sicuramente a questo bisogno di tante emozioni diverse, di tanta riflessione anche. E mi piaceva questo riferimento a un teatro che cura. C'è un'esperienza molto importante che stiamo centralizzando a Recanati, che è quella di Dance Well, in cui addirittura la pratica della danza aiuta i malati di Parkinson a ritrovare una fiducia ancora più forte in loro stessi. Devo dire che l'esito è davvero commovente, ma appunto da esperienze come queste alle tantissime famiglie che affollano i teatri nella domenica, come valida alternativa al centro commerciale. Insomma, davvero il teatro, e nelle Marche in particolare, bene ha fatto la Regione Marche a pensare questo corpus unitario per candidarlo all'UNESCO come patrimonio unitario. Davvero sono una platea unica che ci consente di divertirci, di trovare occasioni di evasione, ma anche quella che noi chiamiamo di invasione. Assolutamente. Resta con noi Gilberto Santini, perché poi lo richiamerò su altre questioni proprio riguardo ad alcuni appuntamenti in programma, per esempio, per domani. Noi andiamo avanti. C'è stata una importante operazione della Guardia di Finanza anti-sfruttamento. Vediamo il servizio. Lavoravano mediamente 12 ore al giorno con una pausa pranzo di 30 minuti senza ferie o permessi a fronte di un contratto in linea con le normative nazionali. La Guardia di Finanza di Fermo ha scoperto un nuovo episodio di caporalato con 50 extracomunitari coinvolti in un'azienda del territorio operante nel settore agroalimentare. Le indagini sono scaturite dalla denuncia di un ex dipendente licenziato per essersi recato al pronto soccorso a causa di un grave infortunio sul lavoro. Una triste storia con il solito contorno del gravissimo stato di bisogno dei lavoratori entrati in Italia quali richiedenti asilo politico e la mediazione del presunto caporale. Le attività di perquisizione anche sui dispositivi informatici hanno consentito di raccogliere file e documenti utili alla ricostruzione della sproporzione tra le ore di lavoro effettivamente prestate e quanto emerge dai contratti di assunzione. Le indagini, costantemente coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo, sono tutt'ora in corso e non si escludono ulteriori sviluppi. Arriva adesso il momento dedicato a voi, Tivoi RS. Continuiamo a ricevere video e filmati che ci state mandando per raccontarci qualche problema nelle città o che incontrate, ma anche per segnalarci delle belle immagini. Il numero è sempre lo stesso, è un numero Whatsapp 327-957-3655. Mi raccomando, filmati basta un cellulare in orizzontale per segnalarci appunto problematico, anche inviarci delle belle immagini e diventare voi stessi reporter. E quindi andiamo a vedere la nostra rubrica. Nicola, da San Costanzo, siamo nel Pesarese, manda immagini di una fonte storica e di un abbeveratoio, località Stacciola, dove nel Novecento le donne si recavano per lavare i panni. Questo pezzo di storia è, come si vede dalle immagini girate dal telespettatore, completamente invaso da erbacce incolte e alte e rovi che ne impediscono quasi la visuale e rendono difficile il passaggio per arrivarci e versa nel degrado ed abbandono più assoluti. Una fonte che invece potrebbe essere rivalutata, rimessa a posto nella sua struttura che potrebbe, come altre, anche essere un luogo di interesse storico e locale. Quindi noi ringraziamo il signor Nicola per queste immagini, cercheremo di capire a chi appartiene questa antica fonte e vedere se magari si può fare qualcosa. C'è un'altra rubrica si chiama Bontà Virale perché nel quadro a tinte inquietanti che ci consegna la cronaca di questi giorni questo è uno spazio che può far davvero bene perché è dedicato alle buone notizie. Vediamolo insieme. Mettere il proprio talento a disposizione dell'altro in questo caso degli altri gli alluvionati di Senigallia ognuno in questi casi mette quello che può c'è chi prende la pala e scava nel fango chi mette a disposizione un mezzo per portare via macerie c'è chi mette se stesso e quello che sa fare e quello che c'è da fare si fa e mette il proprio talento e la propria passione a fin di bene come questa iniziativa gestita dalla Caritas. Come Caritas Senigallia ci è piaciuto da subito quando Anna ci ha fatto la sua proposta di creare un progetto insieme in cui lei potesse mettere a disposizione le sue doti artistiche per creare dell'avvigliamento che potesse avere uno scopo solidale. Già da due anni collaboriamo con lei facendo delle sfilate in cui Ricavato può andare a Fondazione Caritas in quest'anno dato l'evento che ha colpito il nostro territorio di Senigallia e i paesi vicini abbiamo pensato di donare il Ricavato proprio per l'emergenza alluvione. Una sfilata di moda per uscire dal fango e dalla disperazione questo è accaduto con lo scopo di raccimolare fondi per chi ha perso tutto o quasi. Con questo progetto ho cercato di mettere al servizio della comunità la mia passione una passione che avevo accantonato negli anni che ho rispolverato soltanto negli ultimi periodi proprio per dare il mio piccolo contributo in questo fangente così devastante quale è stato l'alluvio di Senigallia. E complimenti per questa iniziativa. Ancora una rapidissima pillola nello spazio TVIRS un memo flash della rubrica scadenze del giovedì per evitare dimenticanze. alla fine del mese scadrà la presentazione dell'unico ovvero la dichiarazione dei redditi con la possibilità di integrazione delle spese relative agli anni 2020 e 2021 ovvero di tutte le tipologie di redditi ad esempio il TFR per le collaboratrici domestiche. Da dicembre fino alla fine di febbraio sarà possibile presentare un modello tardivo con il pagamento di una maggiorazione di 25 euro. Oggi tanta cronaca nel nostro telegiornale le ultime 24 ore nel servizio di Andrea Verdolini. È una 54enne di Tolentino la persona arrestata dopo essere stata trovata in possesso di oltre 31.000 files contenenti immagini e video pedopornografici. L'indagine è stata condotta dagli investigatori della Polizia Postale delle comunicazioni Marche. Il materiale rinvenuto ritraeva minori tra i 6 e i 13 anni coinvolti in atti sessuali tra loro e con adulti. L'indagine trova la propria fonte nella segnalazione presentata da un organismo internazionale. Accertamenti investigativi avevano consentito di correlare altre 12 segnalazioni dello stesso organismo e di identificare il destinatario della perquisizione. L'uomo è stato rinchiuso in carcere. 900 residenti della zona di case bruciate di Pesaro saranno evacuati e portati alla vicina vitri frigoalè nel prossimo 4 dicembre. L'operazione si rende necessaria per disinnescare una bomba inesplosa di 5 quintali residuo della seconda guerra mondiale lanciata da aerei americani nel 44. Non è escluso tra l'altro che dovrà essere chiusa la vicina autostrada 14. L'area è già transennata ed inavvicinabile. Tre giovani sono stati arrestati dagli agenti della questura di Ancona sorpresi in via Maratta mentre erano intenti a rubare da alcuni veicoli posteggiati nei pressi. I ladri hanno tentato di darsi alla fuga gettando alcuni oggetti ma tutti sono stati rintracciati e fermati anche dopo una colluttazione stamane per tutti l'udienza di Convalida. Ed ora la pagina sportiva sigla. Apriamo con la palla a volo emergenza covid ormai superata in Casalube la squadra bianco-rossa fermata dal virus domenica con il Siena sarà quasi certamente in campo domenica a Piacenza. Per il calcio slitta il ritorno dell'area canatese nel suo impianto il sopralluogo della commissione pubblici spettacoli non ha dato l'esito sperato per cui la gara con la reggiana di martedì 29 novembre si disputerà ancora a macerata. L'esordio al Nicola Tubaldi dovrebbe a questo punto avvenire sabato 10 dicembre contro la Virtus Entella. Il via libera definitivo dovrebbe avvenire giovedì primo dicembre. E adesso vi proponiamo un servizio nel quale parliamo sì di sport ma anche di un esempio eccellente di risparmio energetico. Camilla Cataldo Si tira la cinghia nell'ottica del risparmio anche nelle palestre si ottimizzano le strutture evitando di lasciare orari scoperti ci si riorganizza e a Marotta si predispone il nuovo impianto taglia bollette il sistema di illuminazione al tre ragazzi consentirà un risparmio dell'80% sui costi si sono sostituite tutte le lampade alogene presenti con fari a led di ultima generazione per avere una luce più intensa e distribuita sul campo il consumo passa da 24 kilowatt a 3,8 un progetto molto importante in cui abbiamo sostituito le vecchie lampade alogene con fari a led di ultima generazione e quindi un investimento che ci permetterà di risparmiare in futuro soprattutto sulle bollette dell'energia che erano molto alte sì erano molto alte e diciamo che con questo investimento di circa 40 mila euro riusciamo a recuperare le risorse investite in tre anni l'adeguamento consentirà anche lo svolgimento di competizioni sportive di alto livello che richiedono degli standard di illuminazione sì certo quindi i lavori sono stati fatti appunto affinché le società sportive possano beneficiare di una struttura sicuramente più efficiente e anche che mira al risparmio energetico quindi un progetto importante siamo contenti che è stato portato avanti dall'assessorato allo sport come di consueto vi proponiamo alcuni spettacoli per domani sera naturalmente abbiamo fatto una cernita a Pesaro Videobox una rassegna di videodanza Tolentino Biumoro e Pop Sofia a Fermo Rosetta Malaspina ed è un'iniziativa che si inserisce nella giornata contro la violenza sulle donne e poi vi proponiamo Camerino Totò oltre la maschera con Alessandro Preziosi Pesaro 70 volte 7 allo sperimentale a Porto San Giorgio Fiaba Fovia al teatro comunale questi ultimi tre spettacoli sono firmati a Amat a Amat che è impossibile dire in quanti luoghi siete con quanti spettacoli o ce la facciamo? Ce la facciamo abbastanza bene perché prendo l'esempio dall'anno pre-covid quest'anno ha la stessa struttura sono quasi 100 i luoghi di spettacolo che tocchiamo in particolare teatri storici ma non solo anche tanti altri luoghi per spettacoli diversi per un totale di quasi 500 spettacoli nella sola stagione invernale quindi davvero se c'è bisogno di teatro c'è anche tanta proposta nei nostri spazi Teatri grandi e piccoli Santini? Grandi anche molto piccoli devo dire che la caratteristica delle Marche è quello di avere dei luoghi sempre belli capaci di un grande stupore di un grande incanto anche in teatri molto piccoli da questo punto di vista anche teatri storici da anche circa 100 posti che abbiamo nella nostra rete sono luoghi che comunque riservano sempre delle belle sorprese e delle belle emozioni agli spettatori E quando portate grandi attori i grandi nomi nelle Marche magari in luoghi non molto conosciuti qual è l'approccio? Gli artisti sono molto felici perché sanno che le Marche sono davvero belle e ospitali non è solo un modo di dire perché poi lo riscontrano anche in ogni passaggio che viene fatto dall'albergo in cui arrivano che spesso sono magari delle belle dimore e poi soprattutto il calore del pubblico perché comunque non accade ovunque che ci siano i teatri sempre così pieni con un'attenzione così importante anche gli spettacoli che segnavi sono proprio emblematici un grande artista come Alessandro Preziosi che apre una stagione devo dire trionfale ringrazio molto il Comune di Camerino per averla costruita con noi e così come un gruppo fortissimo in uno spettacolo tra i più commoventi che si siano visti in scena negli ultimi anni 70 volte 7 addirittura uno spettacolo sul perdono che non capita da un fatto quasi di cronaca appunto viene costruito questo lavoro e fino a domenica saranno a Pesaro a raccontarlo così come invece da YouTube dai social viene fuori il percorso della Safanov che sarà appunto a Porto San Giorgio quindi il teatro davvero è sempre più un contenitore accogliente di storie provenienze culture diverse in questo senso quando ne parliamo in termini di luogo della comunità gli artisti lo sono ma sicuramente occorrono gli spettatori per creare questo connubio questo cortocircuito grazie a Gilberto Santini viva il teatro grazie davvero per essere stato con noi averci raccontato un po' di quanto l'AMAT realizza siamo in chiusura io vi ricordo che tutte le notizie il nostro ultimo telegiornale potete trovarlo su www.utvrs.it ora vediamo l'home page ci sono notizie di cronaca di spettacolo di cultura di sport e video e quindi davvero potete essere sempre in contatto con noi ultimissima cosa i programmi della serata su TVRS vi segnalo alle 20 e 50 canale salute nuove frontiere della neurochirurgia nelle lesioni intracraniche alle 22 e 15 starting block la rubrica di atletica alle 23 detto fra noi il talk show con Giovanni Filosa è davvero tutto ora sigla e le previsioni meteo grazie per essere stati con noi un saluto ben ritrovati con le previsioni di 3b meteo nella giornata di giovedì avremo una temporanea tregua dal maltempo sull'Italia infatti la pressione atmosferica andrà aumentando favorendo dunque un miglioramento su molte nostre regioni vediamo più in dettaglio la mappa della nuvolosità che ci mostra come gran parte del nostro paese sia alle prese con il sole salvo una maggiore nuvolosità che insisterà all'estremo sud qui con anche qualche goccia di pioggia infatti osservando anche lo zoom delle precipitazioni notiamo come qualche fenomeno sarà possibile tra la Sicilia tirrenica e la Calabria per il resto avremo tempo asciutto ma attenzione a una perturbazione che nel corso di venerdì tenderà ad avvicinarsi poi al nostro paese nuovamente vediamo quindi nel dettaglio il tempo sul nostro paese nella giornata di giovedì tempo che resta stabile soleggiato un po' ovunque qualche addensamento sui confini alpini con fiocchi di neve sui crinali ma si tratterà comunque di fenomeni molto localizzati una maggiore variabilità al sud qui con qualche acquazione anche a sfondo temporalesco tra il Messinese e la Calabria e Tirrenica clima che resta molto ventoso al centro-sud tutti i dettagli su Trebi Meteor